Da oggi è stato molto... ci siamo compresi Il segretario ha a mente fredda il giorno dopo Sì sì sì, sì certo Ecco il segretario, il giorno dopo a mente fredda È stato un buon accordo quello di dire Sì assolutamente Ci ha riflettuto bene diciamo in questo senso Ci ha dormito su bene Per me è stata una decisione molto sofferta Ma la coalizione che si è andata a costruire È davvero una coalizione per perdere E Come on, let's miss again Like we last summer